. Jeremias Rodricone con accento acuto Guetz piange al GF Vip, la sorpresa del padre. . Grande fratello Vip, Jeremias Rodriguez e le parole del padre Gustavo. Jeremias Rodriguez al Grande fratello Vip ha ricevuto la visita del padre Gustavo, intervenuto all'interno della casa dopo che il ragazzo durante la settimana aveva affermato di averlo deluso molto. . L'uomo, da dietro un vetro, ha quindi esordito dichiarando che è impossibile che suo figlio lo abbia deluso, in quanto lui lo ama immensamente, come del resto ama immensamente sia Belen che Cecilia. . 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